Ciao a tutti ragazzi, sono Vero 91 allora, faccio la femmina? Ok? E' uguale al maschio, praticamente cambia il tema, cambia che c'è il fiocchetto. Allora, 5 pilla, ok, poi 2 maroni, che sporge, no, 2 bianchi, 2 marroni, no, un marrone, un bianco, un marrone, e 2 bianchi. poi 1, 2 bianchi, 2 marroni, il giallo, facciamo sempre più scuro, un cavolo di marrone, 2 marroni, no, un marrone, che cavolo sto facendo? 2 bianchi, un marrone, 2 bianchi, un marrone, no, 2 bianchi, un marrone, un altro bianco, 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 no, bianco, un giallo due marroni e due bianchi che è uno dei per forza sporgere perché è giusto tre bianchi un giallo è un giallo sempre giallo nell'apri no tre un marrone e un giallo e un marrone è un giallo e un giallo e deve sporgere in realtà poi e siamo al giallo e tre marroni raga no e tre bianchi raga mi ha fatto far confusione questa cosa poi due bianchi ancora due bianchi un'infinità di gialli un'infinità di gialli poi un bianco che deve sporgere e poi un'altra finità di gialli ragazzi un'infinità un'infinità di gialli devi farne un altro uguale raga un'infinità poi poi va fatta una finalmente sono quasi sono quasi fatta due gialli un bianco 5 bianchi 5 gialli un due tre un ottimo 5 g un bianco un bianco e due gialli un bianco poi un bianco nuovo un giallo un giallo due bianchi due gialli un attimo due un attimo vedo la sua batteria poi è scarica e dopo non la posso più fare perché la batteria è scarica la faccio in questo momento un attimo gli occhi ho quasi finito almeno per oggi ho fatto quello che devo fare aspettate la batteria si scarica e io sono senza dopo perché quando fai i video la batteria si scarica si scarica e ovviamente quando si scarica io dove metterla in carica ma nel mentre tu la metti in carica ci vorrà domani capito? il punto è che ci vorrà sempre domani e io domani ho un altro video da fare forse riesco no no finito proprio guarda ho proprio finito finito proprio guarda ragazzi abbiamo finito no come sempre ci vediamo al prossimo video ciao fino a un prossimo video